Il professor Weisskerns ha dato un contributo fondamentale su temi diversi delle neuroscienze, dell'incrocio tra neuroscienze e psicologia. La giornata di oggi è una giornata memorabile per la neuroscienza e per la psicologia torinese, non solo perché la presenza del professor Weisskerns ci onora e la fellowship che gli stiamo dando è una testimonianza di riconoscimento importante, ma anche per la qualità degli speaker che sono tutti nei loro campi scienziati di fama internazionale che hanno fatto lo sforzo di trovare tempo nelle loro agende per essere qua oggi a celebrare Weisskerns, ma anche in qualche modo a rappresentare il paranormale delle neuroscienze e della neuropsicologia mondiale a Torino oggi.